Salve a tutti e benvenuti a Optedook Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test del filtro rosso, che è un test molto pratico, semplice e veloce per valutare la presenza di fusione, ovvero del secondo grado della visione binoculare. Fondamentalmente in questo test si usa un filtro rosso che viene anteposto per convenzione all'occhio destro, poi un'illuminazione ambientale molto bassa, quasi nulla, diciamo, per sfruttare al massimo la visione centrale, e poi una mira luminosa bianca, molto piccola, quasi puntiforme, posta ad una certa distanza. Dunque, in questo test praticamente, l'occhio sinistro, dove non c'è il filtro, percepisce una mira bianca, una mira luminosa bianca. L'occhio destro, invece, dove c'è il filtro, percepisce una mira luminosa rossa. In presenza di fusione vi sarà una singola percezione che corrisponderà ad una mira luminosa né bianca né rossa, ma di un colore rosato, insomma rosa, o di un rosso molto molto chiaro, perché vi è la fusione. Se vi è soppressione, ad esempio nell'occhio sinistro, allora la mira luminosa sarà percepita come rossa, se è l'occhio destro che sopprime, allora vi sarà una percezione di una mira luminosa bianca. Vi può essere anche di blobbia, quindi si percepiscono due mira luminose, una bianca e una rossa, e bisogna fare molta attenzione quando ci sono oteropie e corrispondenza retinica anomale. Lì ci potrebbe essere anche fusione e quindi visione in singola, ma comunque sia c'è un'atropia, quindi bisogna stare molto molto attenti. Quindi questo test è davvero molto semplice e consente di appurare la presenza di fusione in un tempo brevissimo, in un tempo molto ristretto, quindi molto semplice e molto pratico da effettuare. Quindi questo è il test sul filtro rosso, se vi è piaciuto questo video lasciate dei like, tanti like, e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo OptoVideo, bella OptoStyle! E vi attaccounti l' Grazie a tutti